Ma noi, la nostra posizione è abbastanza chiara, rispetteremo ovviamente la volontà dei cittadini, non eravamo pregiudizialmente contrari a questa fusione, però a un certo punto abbiamo rilevato diverse criticità rispetto a questo processo per quanto riguarda soprattutto il metodo. E soprattutto abbiamo palesato il nostro no, abbiamo fatto campagna non profusione nel momento in cui in questa sede fu presentato quel famoso emendamento che di fatto attuerà tutti quei meccanismi per cui si andrà di fatto a fusione in ogni caso. Quindi ci è sembrata un po' una presa in giro rispetto a un procedimento che era già in corso e che si temeva fosse applicato anche sulla fusione in corso, oltre ovviamente a diverse criticità e soprattutto rispetto a un metodo che noi non abbiamo condiviso. Però adesso non voglio qui entrare in polemica con nessuno perché comunque le nostre rilevazioni le abbiamo fatte anche a livello territoriale, quindi la fusione e il referendum è stato fatto. Io piuttosto che dovermi sentire in dovere di spiegare ai cittadini consiglierei eventualmente al Partito Democratico di chiedere ai cittadini e di chiedersi il perché questa fusione non è andata avanti. Comunque noi rispetteremo l'esito popolare e voteremo a favore del non passaggio all'articolato. Grazie a tutti.